Ciao a tutti, oggi prepareremo la mousse di piselli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono piselli, sale, panna da cucina, pepe e acqua. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il sale, posizionare il cestello con i piselli, chiudere con il coperchio ed azionare il bimbi per 25 minuti, 100 gradi, velocità 2. Ruotare il boccale e lasciare intiepitire i piselli. I piselli si sono intiepititi, versarli nel boccale ed azionare il bimbi per 10 secondi a velocità 8. Riunire sul fondo del boccale con la spatola e ripetere l'operazione per 10 secondi a velocità 6. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere la panna, il pepe ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 4. La mousse è pronta. Utilizzarla per farcire i crostini o boulevard. Mousse di piselli. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.